Buonasera a tutti, questa sera parleremo di quella che è la condivinzione. E qui vediamo una testimonianza di Muhammad Ali. È la ripetizione delle affermazioni che ti porta a crederci. E quella credenza si trasforma poi in una convinzione profonda. E le cose cominciano ad accadere. Ma andiamo a vedere quella che è la differenza, o quella che possono essere le differenze, tra la speranza e la convenzione. Qui vedete alla sinistra tutto questo campo arido, brutto. Mentre la nostra destra è un bel campo verde, tranquillo, che ci dà una bella visione. Di fronte a noi abbiamo questa strada che porcorriamo, che magari può essere nel mezzo tra quello che può essere la speranza e la convenzione. E quindi una linea precisa che saltandola trasforma in direzione verso il nostro successo. Quindi perché rimanere su questa strada, mentre si può assolutamente passare in direzione di quella che è la convinzione di poter camminare in un bellissimo prato verde. La speranza si trasforma quando cambi il tuo modo di pensare, che è spesso legato al tuo passato. Perché continuare a pensare al tuo passato? Perché continuare, normalmente noi pensiamo al nostro passato, solo alle cose negative che abbiamo vissuto nel nostro passato. mentre magari potrebbe essere interessante pensare alle cose più positive. Quindi la cosa più interessante è liberarsi del proprio passato. Ma perché? Andiamo a sentire anche la Miriam cosa ci vuole raccontare di questo suo pensiero. Pensare è di vivere il presente liberandoci dal tuo passato e occupandoci del nostro futuro. Quindi cercare il momento del qui ed ora in modo da essere più sereni, più equilibrati, in modo da vivere proprio il nostro presente, lasciando stare, liberandoci del nostro passato e occupandoci proprio del nostro futuro. La speranza si trasforma cambiando il tuo modo di pensare, di conseguenza cambia il tuo modo di esprimerti, che è spesso legato ai condizionali. La prima persona in cui deve fare questa trasformazione, questo cambiamento, devi essere tu stesso. Devi ascoltarti molto bene e mentre ti ascolti devi capire che quei condizionali si devono trasformare nel presente, come il vorrei e trasformarlo in voglio. Molte persone si focalizzano se avessi potuto, se avrei potuto fare quello, cioè lasciare, abbandonare la speranza con questi condizionali e arrivare al voglio, al presente. E siamo solo noi a poterlo fare e a trasformarci in una persona di successo. Cioè, quando ti togli le ancore da dentro te stesso, possono essere delle ancore che ti sei tatuato tu, ma non ce la faccio, non riesco a parlare in pubblico, non riesco a vendere i prodotti, non riesco a vendere le attività, oppure non riesco a usare i social. Sono tutte ancore che ti sei messo tu in testa e che te ne devi liberare. Oppure ci sono le ancore che ti hanno tatuato gli altri, come ad esempio, eh, cosa vuoi con quei profumi, ma sono sempre le solite cose, oppure sono sempre le solite cose piramidali, lasci a stare tu che non hai mai combinato niente di buono. Ecco, sono tutte ehm limiti che ti hanno tatuato gli altri e che te ne devi liberare. Solo quando ti togli questi pesi, queste credenze limitanti, allora arrivi al primo step, al tuo primo traguardo. Il tuo desiderio di trasformazione finalmente potrà vivere una tua nuova fase, fare il primo passo per raggiungere il tuo primo obiettivo. se è solo tu che lo puoi fare, con la trasformazione, con la voglia di riuscirci, con la voglia di esserci e di arrivare al tuo obiettivo. Un vero senso di libertà di azione in direzione dei tuoi obiettivi e vicino ai tuoi sogni. La tua attenzione sia allineata con la tua intenzione. Qua è una bellissima, è una bellissima foto, una bellissima immagine da quando tu, da quando la farfalla era bruco, poi crisalide, e poi si trasforma in una bellissima farfalla. Questi sono i vari step che anche le persone che si scrivono e che iniziano per la prima volta in Essence devono fare, passare dal bruco, seguire un loro percorso, arrivare al primo step e poi raggiungere piano piano gli altri obiettivi per diventare delle bellissime farfalle di Essence. E quando vedi una luce, una ispirazione che ti muove veramente, senti dentro quell'energia che ti offre la voglia di fare, di costruire qualcosa di nuovo, libero dalle vecchie credenze. E sei proprio tu che forse neanche non te ne accorgi in quel momento che ti stai trasformando perché stai facendo delle presentazioni oppure perché sei ispirato dalla storia, ad esempio, di Carlo oppure perché hai veramente un'ispirazione da una persona che ti ha detto magari una frase e poi sei veramente motivante per te. Logicamente la trasformazione deve passare da alcuni segnali che ti fanno capire che stai ottenendo i primi risultati e che la speranza è proprio trasformata in credenza. Ad esempio, quando hai la prima vendita, oppure quando una persona ti dice di sì oppure quando hai veramente un nuovo iscritto e che ti viene una voglia di continuare, di andare avanti e sei proprio tu che è la tua trasformazione che ha fatto sì che questa speranza si trasformi proprio in una verità, una realtà. per fare ciò è fondamentale appoggiarsi a chi può essere per te di ispirazione, chi ha già ottenuto risultati che rafforza dentro di te quella convinzione necessaria per perseguire nei tuoi sogni. Infatti è il tuo mentore, la persona che ti dà una guida, che ti scioglie quei nodi, quelle difficoltà che per te sono problemi e le trasforma in soluzioni. Ecco, quando vedi i primi risultati è il momento di continuare, non si molla, non si molla mai, quello è il tuo momento, questo qua che vedete sotto è il terreno della speranza che è brullo, secco, ma voi ci avete messo un credo, una voglia di arrivare ed è quel fiorellino giallo-arancione che riesce e perché voi ci credete e ci riuscite per quello a realizzare il primo passo, il primo obiettivo. Molti si fermano, gioiscono, giustamente bisogna gioire e anche essere allegri e brindare a questo successo, a questo primo obiettivo, ma non si molla mai, questo è il primo step, dovete capire che siete all'inizio oppure siete andati avanti, comunque è un obiettivo che avete raggiunto, ma bisogna sempre aggiornare i propri obiettivi ed andare avanti ed arrivare sempre più in alto perché il vostro credo deve essere forte, deve essere fatto tutto con energia e con la voglia di riuscire. è importante invece mantenere proprio l'energia e la concentrazione e continuare nella propria trasformazione. Infatti la trasformazione avviene quando voi fate il salto nell'altro terreno della realtà, della voglia di riuscire e quindi avete un terreno rigoglioso, fiorito, pieno di margherite attraverso il quale queste margherite rappresentano i vostri iscritti, le persone che avrete nel vostro gruppo e che assieme riuscite a raggiungere i propri obiettivi proprio per trasformare la propria vita in una vita vera che volete voi. Grazie Miriam, quindi continuiamo con quello che è il tema della convinzione e parliamo di quello che è il pericolo, il pericolo di ritornare in direzione della speranza e se non hai un focus, se non hai un obiettivo, se non sei vicino a un sogno, il pericolo è quello di ritornare se non sei attento a quello che sono i segnali come parlava prima la Miriam di quello che ti sta accadendo, se c'è un momento buono, se sei nel tuo momento assolutamente bisogna continuare e continuare perché? Perché i risultati potrebbero anche sorprenderti, potrebbe anche accadere qualcosa di impensabile che magari queste piccole margheritine diventano assolutamente un campo di tulipani immenso dove tu ti muovi in totale scioltezza quindi è assolutamente imprevedibile quello che può accadere all'interno di quella che è l'attività che stiamo svolgendo perché l'attività è fatta di persone, è fatta di energia e quando si trovano delle energie belle, pulite, quando si trovano dei buoni collaboratori, quando si stiene il momento è il momento di insistere, di continuare, di perseguire verso quelli che possono essere i propri obiettivi. e lì la chiave del successo perseverare, insistere e combattere quindi le persone normalmente come posso dire si accontentano e invece quello di continuare a perseguire quello che è il tuo successo a mantenere quella tua attenzione a mantenere il focus verso quello che è l'attività e quindi essere concentrato a trovare nuove idee come ha presentato prima Angela la sua idea quindi trovare delle iniziative nuove che possono essere motivanti che possono essere come posso dire che fanno un po' la differenza rispetto a quelle che possono essere i metodi comuni di realizzare quello che può essere l'attività e quindi questo perseverare insistere e combattere è la capacità di mantenere questa attenzione che è fondamentale ed essere convinto che questo è solo il primo segnale ed è solamente la prima prova di un bellissimo percorso che tu stesso ti sarai creato e ancora solo semplicemente all'inizio quindi l'orgoglio di aver creato tu questo percorso che ed è semplicemente l'inizio come vedi la strada può essere assolutamente lunga perché dipende da quale può essere il tuo obiettivo qual è il tuo obiettivo arrivare a una qualifica del primo piano marketing o arrivare a la qualifica del secondo piano marketing qual è la cosa che ti piace di più quella di essere parte di un sistema dove comunque tu presenti quelle che sono le tue capacità professionali perché sei preparato come Laura e di conseguenza riesci a esprimere facilmente tutte quelle che sono delle terminologie legate a quello che sono l'integrazione alimentare oppure conosci molto bene quello che è il network marketing e quindi sai muoverti molto bene come fa la Miriam oppure come può essere Gaetan che ha una preparazione per quanto riguarda tutto quello che riguarda lo studio di laboratorio e quindi quando si tratta di capire bene quali sono i componenti del nostro integratore alimentare sa sicuramente esprimersi quindi tutto questo è importante ascoltare quelli che sono i segnali i segnali di questo bellissimo percorso dove è importante che tu ti senti proprio all'inizio perché uno degli errori fondamentali è quello di sentirsi arrivato ed è qui la chiave sentirsi all'inizio è fondamentale per avere quelle umità necessarie per chiedere il bambino quando eri piccolo quando eri piccola Flora quando eri piccolo Fabio quando eri piccolo a Elena chiedevi sempre alla mamma e quindi alla mamma chiedevi perché 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 quindi questa curiosità deve nascere nel te stesso perché questa attività è un'attività a sé non è un'attività è diversa perché il modo di aiutarsi il modo di collaborare è completamente diverso da quello che è il sistema tradizionale nostro e quindi di conseguenza tutto quello che è il modo di pensare certe volte ti stupisce ma perché ma perché mi aiuti perché mi supporti quando tutto il mondo che è all'esterno mi combatte vuole che io rimanga piccolo e qui tu mi motivi a diventare più grande e a crescere a innovarmi in quello che può essere il modo di comunicare il modo di di relazionarmi il modo di presentare di vendere e quindi l'umiltà necessaria è fondamentale proprio per la tua crescita personale tua e di tutto il tuo gruppo informarsi formarsi creare il tuo nuovo io fatto di una consistente voglia di cambiamento guardate lo sguardo di questa donna una donna che sta guardando a quello che può essere il suo futuro vive nel presente perché si sta studiando un po' tutte quelle che sono le cose del passato perché sono cose scritte sui libri e di conseguenza si farà la sua storia si creerà la sua storia qual è uno degli errori? è evitare di riempirsi di false aspettative aspettative che ti sei creato tu perché tu vuoi avere la BMW domani e quindi non è possibile oppure che ti hanno raccontato che tutto è facile ah sì ti iscrivi fai un codice e poi cosa vuoi? sì ti ascoltano tutti e fanno il loro autoconsumo mensile e quando hai 500 persone sei ricco assolutamente no la BMW non te la danno solo perché ti iscrivi dovrai fare l'attività in maniera efficace costante e produttiva quindi mantenendo una forte attenzione un focus costante con una fame di perché il risultato incomincia a nascere cosa c'è di assolutamente da prestare attenzione? che devi fare buon uso del tuo tempo buttandolo non recuperi più se passi le ore sui social o se passi le ore nei bar e assolutamente non riesci a aprire la bocca per quanto riguarda motivare una persona a provare un prodotto o a parlare di quello che può essere l'attività stai buttando il tuo tempo assolutamente noi dobbiamo essere le persone che in qualche maniera fanno minimo una trentina di proposte in un giorno quindi se non hai fatto questa cosa ancora nella tua giornata stai buttando via il tuo tempo per quanto riguarda l'attività magari l'avrai occupato per fare l'altro ma per fare l'attività lo stai buttando ma questo tempo non lo recuperi più perché il tempo è assolutamente il bene più prezioso che noi abbiamo quindi non dobbiamo sprecarlo se abbiamo un obiettivo se abbiamo un focus se abbiamo un sogno da perseguire assolutamente dobbiamo rimanere su quel focus su quell'attenzione e portare un risultato soprattutto a noi stessi quella è la cosa fondamentale lavorare in maniera produttiva aumenta la convinzione perché come vedete ci sono degli ostacoli ma se tu hai la determinazione giusta e quella convinzione che ti porta sempre ad avere dei piccoli risultati giorno dopo giorno perché qui assolutamente bisogna lavorarci sopra ogni giorno e anche il vento che c'è contro non ti fa assolutamente niente ti rinfresca la faccia ma tu sei pronto e preparato per superare qualsiasi tipo di ostacolo perché con la convinzione e la determinazione che senti dentro è assolutamente una marcia in più rispetto a quello che può essere un qualsiasi tipo di attività è importante eliminare la dipendenza dalla motivazione del tuo upline o del tuo sponsor molti dicono perché il mio upline non mi aiuta perché il mio sponsor è in Giappone e quindi io non faccio niente e quindi cosa succede? se lui non ti aiuta tu non fai niente quindi l'organizzazione e il codice è tuo quindi tu ti devi prendere la responsabilità di gestire quelle che può essere la tua motivazione personale e non dipendere assolutamente da quelle che possono essere le motivazioni che ti possono dare quelle che sono le tue upline o il tuo sponsor quindi assolutamente renditi indipendente sotto l'aspetto emotivo ma anche indipendente dagli stati d'animo delle persone della tua struttura perché se tutti piangono ti metti a piangere anche tu cosa succede? Facciamo una bella bacinella d'acqua di pianti ma non risolviamo assolutamente niente quindi assolutamente dobbiamo essere delle persone che dobbiamo essere libere dagli stati d'animo delle persone che ci si ricontano soprattutto in questo periodo che stiamo vivendo quindi in questo periodo che stiamo vivendo dobbiamo essere capaci di essere che di fare la differenza come? Con la tua automotivazione trovati un momento importante per te per ricaricare le pile per trovare quello che può essere quella motivazione giusta per fare qualsiasi cosa anche l'attività di essere quello che può essere gestire la tua giornata o gestire una famiglia e quindi assolutamente bisogna trovare degli spazi personali dove ricaricare le batterie questa è una delle cose fondamentali perché molte persone si dimenticano di loro stessi e non si occupano di quello che può essere la propria ricarica personale cosa devo fare per far sì che io abbia quella marcia in più che io abbia quella voglia in più che faccia la differenza sul mio gruppo che faccia che dia la motivazione giusta al mio team che mi guardino e mi dicano ma voglio telefonarti perché voglio sentirti e sapere come stai perché quando ti chiamo sento che c'è qualcosa che mi gira e mi gira meglio quindi quando quando senti dentro questa motivazione devi lavorarci su e se non ce l'hai ci devi lavorare su è importante condividere soprattutto con quelle che possono essere le persone che ti possono aiutare come per esempio le tue upline e quindi di conseguenza anche appoggiarti a quelle che sono le tue downline quando hai bisogno di motivazione cosa vuol dire motivazione vuol dire scaricare quello che possono essere le immondizie ma sicuramente trovare dei momenti in cui a livello goriardico o a livello come posso dire o in altri sistemi trovare quella che può essere la tua motivazione assolutamente aumentare la tua autostima perché tutti sono capaci tutti cercano di abbassare la nostra autostima ma noi dobbiamo essere incapaci anche magari di sovrastimarci certe volte perché darci un po' il pizzico di ricarica in più ci può far stare assolutamente bene è logico che non deve essere un allenamento alla sovrastima ma sicuramente darsi qualche qualche pizzico di energia in più può farci star bene quindi sicuramente ricaricarci è importante sicuramente non essere un leone e guardarsi nello specchio per essere un gatto ma essere un gatto ogni tanto pensarsi a un leone non è male perché sicuramente può aiutarti a sviluppare quello che può essere la tua organizzazione quando vedi i primi risultati inizia la tua convinzione quando tu cominci a vedere i tuoi punti di gruppo la posizione del piano marketing le commissioni che cominciano a salire entro i 20 30 40 50 euro i nuovi membri che entrano nel gruppo allora lì senti che i tuoi segnali come diceva prima la Miriam incominciano a essere importanti incominciano a essere quei segnali che come posso dire ti danno quella quell'idea che qualcosa di nuovo sta accadendo e che quell'obiettivo che tu hai incomincia a essere vicino a quello che può essere il tuo possono essere questi i primi risultati ma possono essere anche l'approvazione da parte delle persone la condivisione fatta con le persone che con cui sta lavorando dove senti quella quella energia pulita che passa e che senti che prima o poi qualcosa di buono accadrà quindi per servire nelle tue convinzioni qualsiasi sia il viaggio in Turchia la macchina la tua libertà personale la tua indipendenza qualsiasi sia la tua convinzione persevera in quello continua perché è lì che sta la chiave a continuare a perseverare in quelle che sono le tue convinzioni mantenendo il tuo focus lì devi stare e continuare a chiedere il perché di qualcosa che non sai perché quando non sai non ti muovi e se non ti muovi tu non si muove il tuo gruppo e se non si muove il tuo gruppo non crescete tutti assieme e se non crescete tutti assieme vuol dire che tutto questo gruppo che è stato portato a fare l'attività di Essence non è in grado di sviluppare quello che possono essere le loro capacità quindi bisogna far sì che le persone si esprimano in maniera pulita e libera fai nascere dentro te stesso la voglia di superarti questo è una delle cose che a me piace di più il fatto di potermi in qualche maniera superare di fare meglio di quello che ho fatto prima di fare qualche cosa che mi faccia gioire di un risultato essere sempre come posso dire nella piacevolezza di sentirmi che sto migliorando in qualche cosa e che sto aiutando le persone a essere migliori quindi questo è qualcosa che in qualche maniera ti consiglio di ascoltare quindi la voglia di essere arrivato in un punto dove avevi piacere di arrivare quando sei lassù posso assicurarti che il paesaggio è assolutamente bellissimo perché il piacere di aver aiutato tante persone è un piacere che assolutamente ti auguro al più presto di potertelo sfruttare il tuo team quando vedrà la tua attività quando vedrà quello che sei capace di ottenere tu con le tue decisioni sicuramente sarà ancora più convinto e quindi nella convenzione di un gruppo tutto quello che può essere la speranza se ne va e quindi da questo è sicuramente un bellissimo segnale che noi possiamo dare a quello che può essere qualsiasi parte del nostro team e di fatti noi qui siamo in tre c'è la Sara Avila che penso che arriverà tra pochissimo non so se è già arrivata e Javier Curado e io Carlo Cavasori in collaborazione con la Miriam Pina e Isabel e Isabel